Covid-19 in Sicilia, 626 nuovi positivi, una vittima e 56 guariti, a Siracusa 32 casi. Nel giorno in cui la Sicilia cancella tutte le zone rosse si registra un nuovo picco di contagio, di incidenza e di ricoveri. Sono infatti 626 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell'isola. L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%. L'isola risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono 56, mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva adesso sono 27 ricoverati, ben 6 in più. Per quanto riguarda il contagio nelle singole province, torna in testa Ragusa con 175 casi, seguita da Caltanissetta 97, Grigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.